A proposito dell'attacco alla ASL 1, quella dell'Aquila, ci sono ancora tante domande e tante restano senza risposta, almeno per il momento. In definitiva però, quello che oggi è un problema, per quanto serio, domani potrebbe rappresentare anche un danno economico per la ASL finita sotto l'attacco dei pirati informatici. Per esempio, a chiedersi se il furto dei dati sensibili sia stato comunicato alle vittime nei tempi e nei modi previsti dalla legge che tutela la privacy, è il professor Antonio Teti, secondo il quale la prima cosa da fare è attivare la procedura del GDPR, un acronimo che sta per Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali. La parola chiave è trasparenza, ossia bisogna dire esattamente cosa è accaduto e soprattutto informare la vittima del furto dei suoi dati. E tutto questo entro i tempi stabiliti dalla legge, che sono 72 ore. Continuiamo a farci delle domande, professor Teti, su questa azione di hackeraggio all'ASL dell'Aquila 1, che sta portando comunque anche conseguenze e danni. La prima domanda che le rivolgo è, c'è una speranza di sapere chi, cioè nomi e cognomi e volti, si nasconde dietro questo gruppo? Peraltro, lei mi diceva poco fa fuori dal microfono, ben noto per azioni di questo genere. Assolutamente no, non credo proprio perché stiamo parlando del gruppo Conti, che è una cyber gang nota a livello internazionale, che può contare al suo interno tecnici, informatici, esperti di cyber security, ma esperti soprattutto di vulnerabilità presenti su piattaforme sia hardware che software. Quindi dubito fortemente che si possa arrivare all'identificazione di coloro che hanno messo in atto questo tipo di cyberattacco. In Italia, ma anche in Europa, perché stiamo parlando della norma del GDPR, questa norma impone a livello europeo tutta una serie di attività da mettere in atto nel momento in cui si crea una situazione di questo tipo. La domanda che anche io mi pongo è questa, se alla ASL dell'Aquila sono state attivate queste procedure, come ad esempio quella del data breach. Il data breach è un'attività che deve essere attivata immediatamente nel momento in cui si determina la notifica, la notizia di un danneggiamento dei propri archivi o come, come in questo caso, le sfiltrazioni di dati che, ripeto, sono dati non personali oppure non solo personali ma anche sensibili, perché ricordo che i dati sanitari sono classificati come dati sensibili. Nel caso in cui questi dati vengano persi o comunque, diciamo, esfiltrati, prelevati da un'altra entità, la struttura, nel rispetto della norma del GDPR, deve attivare un data breach, cioè un evento in cui si notifichi ciò che è accaduto ma soprattutto bisogna informare gli utenti che i loro dati sono stati prelevati. Sono procedure che per legge devono essere attivate entro 72 ore dalla notifica dell'evento. C'è la possibilità di una mega class action, secondo lei? Beh, se queste procedure sono state attivate e, come dire, gli interessati, cioè i pazienti, sono stati informati, allora c'è un sostanziale rispetto delle procedure. Se ciò non è stato effettuato, beh, si apre chiaramente uno scenario completamente diverso che può portare a tutta una serie di conseguenze. Qualcuno dice che il fatto che siano stati prelevati i dati sensibili anche di Matteo Messina Denaro possa significare qualcosa in più, secondo lei? Dubito fortemente che, diciamo, questa azione sia stata condotta per ottenere delle informazioni sullo stato di salute di Matteo Messina Denaro che era, diciamo, anche ampiamente noto e diffuso dai media. Quindi, secondo me, si tratta di un attacco classico finalizzato alla richiesta di un riscatto e quindi l'erogazione di una somma di denaro. Eventuale riscatto che si potrebbe pagare in Bitcoin, non per niente, le chiamano criptovalute. Grazie. 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 Grazie.